sicuramente positiva e perché lunedì scorso in casa eravamo sopra di due gol con un uomo in più ci siamo fatti ricordare gli ultimi tre minuti subendo due reti e abbiamo perso quindi era una partita che sicuramente dovevamo affrontare in maniera mentale diversa e abbiamo finito il primo tempo sotto i due gol l'abbiamo ribaltata facendo quattro ore nel secondo tempo quindi sicuramente no anzi questa vittoria dedichiamo a lui che da domani parte per qualche mese per lo studio e la dedichiamo anche a moser e kaira che sono infortunati e no sicuramente c'è ancora da lottare tanto e vogliamo ogni partita tirarci fuori sempre di più dalla zona bassa siamo una squadra nuova diciamo che stiamo lavorando per l'anno prossimo e quindi diciamo che dobbiamo costruire di partita in partita e anche un saluto affettuoso al mister primaldi che può mangiare il panettone